L'appuntamento per lo Sfincione Fest, la settima edizione, 22, 23 e 24 a Bageria, nella nostra bellissima città, che abbiamo coniato questo slogan, questo brand, Bageria, città delle ville, città del gusto. Siamo qua alla BTE perché vogliamo sempre promuovere sempre di più la nostra città, quindi lavorare sulla promozione e sullo sviluppo turistico. E oggi in questa bellissima collocation stiamo lanciando questo bellissimo evento che creerà sicuramente la possibilità di ricevere tanti turisti, ma tanti cittadini del comprensore che potranno appunto apprezzare questa bellissima edizione. Un'amministrazione giunta alla settima edizione, un'amministrazione che cresce, cresce anche in termini di espositori, di aziende, stavolta verranno anche tanti operatori pure fuori dallo stretto di Messina. Un'amministrazione che ha una vocazione anche, una proiezione nazionale. Avremo tanti show cooking, avremo come testimone al Sasa Salvaggio, che riconferma questo ruolo già stato nel 2019, e poi soprattutto cresce, cresce la voglia e il desiderio di questo prodotto, di questa pietanza che sempre più si consolida come testimone all'ambasciatore del territorio e come strumento formidabile di marketing turistico e territoriale. Un evento con protagonista assoluto, chiaramente lo sfincione, simbolo dello street food siciliano, ma anche tanti eventi in programma. Si parte il 22 con il concerto dei QG di Campagna, il 23 si balla fino a tardi con i 40 che ballano i 90, e si conclude la domenica con lo spettacolo musicale degli Sugar Free. Inoltre ci saranno tanti eventi con talk e cookie show, e ci saranno tanti personaggi del mondo della TV legati all'energia gastronomia, come Giustina Battaglia, come Andy Luotto, ma anche tanti chef stellati, tra tutti Tony Lococo e una stella mission di Bageria. Parliamo dei luoghi interessati dall'evento. All'evento si svolgerà lungo Corso Umberto I a Bageria, dove ci saranno tutti gli stand con lo sfincione bagherese, che sarà chiaramente il protagonista, ma anche gli sfincioni di tante città del comprensorio, ma ci saranno tantissime eccellenze siciliane del mondo dello street food, birre artigianali, cantina e tanto altro.